Sejana, un comune di 13.000 abitanti si trova in Slovenia sud occidentale Dunque è un posto piccolo, ma questo posto è conosciuto soprattutto per il prosciutto Perché l'azienda principale in Slovenia è proprio Kras Ma dobbiamo sapere una cosa Che queste persone in generale sono dei contadini Dei contadini in senso lavoratori Contadini che amano i propri prodotti naturali Ma non dobbiamo dimenticarci di una cosa Che c'è anche una squadra di calcio Una rosa di questi gladiatori che combattono Ma soprattutto c'è una persona fondamentale Sasha Gulic, centrocampista Attenzione il tiro per te Mamma mia, Sasha Gulic ha segnato proprio il talismano Il talismano Gol la cineteca Gol la cineteca Gol la cineteca Ha tirato, ha lasciato un missile fuori alla E la palla si è incrociata nel sette Una persona molto 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 particolare Ecco perché allora Lui è stato mio mentore È stato mio mentore Sul primo anno della mia pratica È stato l'anno più difficile della mia vita È stato un anno negativissimo È stato un anno pesante È stato un anno da incubo Ma la fortuna più grande sarà che sono arrivato enorme In un ambiente In quel lavoro dove lavorava lui Era mio mentore Lo ringrazio un sacco ancora Ancora una volta lo ringrazio Lo ringrazio sempre Sempre, sempre, sempre Sempre Ma adesso C'è la rush finale Le partite di ritorno Possono decidere tanto Ma alla fine Tutti coloro che combattono Tutti coloro che combattono sempre Nel calcio Nella vita Qualunque cosa Uniti si vince Uniti si vince Uniti si vincerà E uniti si vinceva Con i fatti E mentalmente Si trova prima in classifica In terza lega slovena È una squadra che ci crede È una squadra che lotta A combattere È una squadra Con 11 cani in campo Vada come vada Ogni singolo Sa quanto Da ben campo Ma la cosa Più importante Più importante È che dopo la partita Si mangia E si gore La pancetta Proprio La pancetta Proprio Mazz Grazie a tutti Grazie.